Eppure di questo video, no aspetta ho lasciato la finestra aperta, aspetta allora Allora, per i... aspetta, allora Per il video di questo video ragazzi sono Henry, oggi siamo qui per il video che teoricamente Dico, teoricamente perché non so quando lo caricherò Dovrebbe essere il video per l'anniversario di FNAF ragazzi Come sapete, come avevo detto in un post, non sarei riuscito a caricare video fino al 9 agosto Perché sto avendo problemi di wifi eccetera eccetera In questo momento io sto registrando questo video il 27 luglio Perciò i miei piani in questo momento sarebbero di registrarlo E poi dopo pompare il mio wifi di steroidi per cercare di caricarlo l'8 luglio Tipo lo carico alla mattina e uscirà la sera probabilmente Perché non so, non so quanto ci vorrà Quindi se sarò riuscito a far uscire questo video l'8 agosto, perfetto Facciamo un bel applauso Se invece sarò uscito il 9 agosto Vabbè, che, che, mi dispiace ragazzi Come avete potuto ridurre dalla intro ragazzi Oggi siamo qui con un personaggio mucho speciale Questo personaggio ragazzi è mia sorella Molti di voi la conoscono come sorella tv Molti di voi la conoscono come seri Lei è seri tv perché io sono l'altv E perciò lei non vedo perché non dovrebbe essere seri tv Oggi siamo qui con sorella tv Saluta di nuovo Buongiorno Adesso ragazzi, come potete vedere Mi sono premurato di scaricare Ho suonato nei meandri del web A scaricare la versione originale proprio di FNAF 1 Vedete la 1.1 Che addirittura non aveva la terza stella Perché io avendo completato la 420 mod su FNAF 1 Dovrei avere qua la terza stella Addirittura in questa versione non c'era ancora la terza stella Non c'è neanche ragazzi l'easter egg di Golden Freddy Quando fai il 1987 Qua nella custom night Quindi adesso passerò la postazione a sorella tv No, a seri tv Vieni qui, scambiamo Scambio di sedia e tattico La sedia No, allora Te ti alzi adesso Ti metti di qui Esatto A me ti alzi tutto ciò Bene Allora Parla comunque un pochino più animata Quando parli seri Lì c'è il mouse Prendilo, afferrali in mano Adesso hai il contorno Aiuto Quindi seri Allora Adesso te hai Queste cuffie hanno un suono che mi mette molta ansia Non è le cuffie del gioco serena No, sì, ma proprio le suono come lo riprodurgo Serena sono le cuffie della macchina Non so Ma perché ci scherzo? Non mi chiede su Cioè, ok Custom night Custom night Vai Allora, iniziamo con qualcosa di facile, ok? Ok In questo momento hai il mouse in mano Perciò hai il controllo di tutto FNAF 1 Perché non ci sono altre cose Non ci sono comandi niente Allora Notte facile, te la faccio io 1, 1, 1 Fatto No, metti Freddy a zero Non gioco a FNAF da una vita Perfetto, puoi iniziare a notte Sì Beh, in effetti è Freddy che è quello più rompi i coglioni Esatto Perché non sai neanche dove si fa a levarlo Perciò ti grazio dal punto di vista del fatto che non dovrai tenere conto di Golden Freddy Perché io sto facendo tutto ciò? Dica un po' di nuovo oggi Perché io sto facendo tutto ciò? Perché te l'ho chiesto? Eh, vedi, non si carica, non possiamo registrare Eh, mannaggia Eh, mannaggia Prima cosa da fare, sempre Ok Perfetto Vedo che sai, che conosci le cose Allora Bene, ora stiamo qui tutto il tempo No, assolutamente Questo qui è lo show stage È la telecamera È la telecamera Ok Allora Allora, aspetta Meno male che deve essere facile la notte È facile Facile non vuol dire che si muovono poco Facile vuol dire che Eccolo Dov'è che è Freddy? Qua, ok, perfetto Allora posso fare Foxy Eh, si freddi, ciao Freddy sta lì Sì Dice Bonnie, Foxy Ecco qui Vabbè, Foxy posso anche guardarlo un po' meno Foxy, allora Foxy Anche qui, cazzo Cazzo No Paura Non arriva così spesso Non si teletrasportano ancora i robot Hanno un percorso ben definito Io sento camminare, però mi mette ansia Allora, ti dico io dov'è Apri le telecamere Vai nella telecamera 2A Eccolo lì No Allora è in 3 3, non 2B È una 3 Shit È sempre lì Guarda, il percorso di Bonnie è molto semplice Quanto evidenziate bene i piedi, no? Vedi Sei il faticista? Eh? Ti facciano i piedi di Bonnie? No, vedi che No, 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 vedi le linee No, 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 vedi Oddio, sento camminare, mi è venuta ansia Bene Sento rumori Dov'è, dov'è Cica? Eh, lì Ah, è qui, ciao Comunque, se li vorrei ricordarti che sono le 12 Ecco, è mezzanotte È l'una, ecco E hai già sprecato più del 20% la batteria Perché anche le telecamere che le luci consumano batteria Non so Ma quanto ho fatto bene il suono in queste cuffie? Cioè, mette un'ansia Ripeto, sono le cuffie della Microsoft da 20€ Quelle, cioè, non sono nemmeno delle cuffie professionali Sono l'equivalente di quelle che prendi dai cinesi, Serena Non so, però c'è un odio che... Cioè Ok, se ti stupisce questo ora di immaginati il resto Ecco, brava Ciao Ciao Ma poi perché sta vicino alla lampada, scusami Ah, c'è, lampadina che prende dal soffitto, non è che stare... IH! Madonna, mi è venuto un infarto Quando lo sento camminare mi vengono gli infarti Bravo, infarta No, brava Brava, infarto, infarto Non infartare Resto con noi Dov'è? Dov'è finita? È nel bagno E dove, qual'è il bagno? La 7, camera 7 Camera, eccola lì Ciao Ciao C'è andato, ma non è... Ecco, ok, allora è lì Fanculo Bene Bene Bravo, bravo, bravo Sputa sul microfono Sì A sto punto scattarriamoci sopra Sì Rovinato un'operazione che era un bijou, guarda Allora, lo show stage teoricamente non dovresti guardarlo più Perché c'è Freddy, però Freddy Non dovrebbe muoversi Bonnie dovrebbe essere andato No, ancora lì Allora, spieghiamo un po' le tattiche scelte No, quella lì non mi serve Foxy, Foxy lo devi guardare spesso, ma non troppo spesso Sì Chica arriverà all'ufficio meno frequentemente, ma ci rimarrà per più tempo Bonnie ci arriverà più frequentemente, ma ci resterà per meno tempo Nonostante in questo momento non sembri il caso, perché ancora lì dovrebbe essersene già andato via, porca puttana Dov'è? Allora, vai a telecamera Clicca su 1C Bene, resta su 1C, chiudi le telecamere, controlla la luce di là Ok, controlla Bonnie Si sarà andato adesso, no? Sì Bene, apri Perfetto A sto punto Adesso l'unica cosa che devi fare è controllare la 1C, ma in ogni caso sappiamo già che stanotte non la vinci perché sono le 2 e hai solo il 46% della batteria Già, e sento camminare da ogni dove Perfetto, allora facciamo così Se senti camminare controlla le luci Se non c'è nessuno, basta Ogni volta che devi riaprire il tablet per controllare Foxy, prima controlla le luci No! Ok, allora, allora, Siri, guarda Dammi una tua luce C'è un trucchetto in questi casi C'è un trucchetto Va bene, vai vai Vai, 3, 2, 1 Dai! Dai! Allora, devo arrivare fino alle 6 così Che è una cosa che... Oh mio... No! Però ce la stai facendo È fighissimo però È possibile in ogni caso arrivare alle 6 così Ecco Vabbè, anche perché le 2 fossero state tipo le 5 e le 4 Esatto, fossero state le 5 avremmo potuto fare Esatto, però no Adesso basta Ah no Allora, no, no Devo arrivare a 10 minuti nel video Allora, adesso Guarda, facciamo una cosa bella Sì! Faccio... Voglio vedere quanto tempo resiste No, Harry, no, 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 no No, 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 no Mi prendo gli infarti, no? Bene, allora Adesso tiriamo fuori il nostro bel... Come si chiama? Il... 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 Il timer E vediamo quanto tempo resiste nella 420 mod Cronometro Cioè, dalla... Da 0 a 2 è easy Io sono morta con 0 a 2 Ah, ma è vero, col 3, quindi medio Cioè, io muoio col medio, extreme No No, 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 non posso andarmene No, devi resistere almeno 5 secondi Eeeh 5 secondi, eh Secondo me non resisto neanche uno Perché scappo prima No, 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 dov'è? Aiuto, aiuto Si era fermata la musica Ok, hai vinto la challenge Sì, vai, sì C'è Freddy che parla, no? Chiudi tutto Ho paura che mi arrivi Foxy Perché ho paura di guardare le telecamere E allora non le guardare Cazzo, ho sentito camminare Sì, vabbè, ciao Ok, troppo tardi Comunque hai resistito per tipo un 35 secondi Perciò direi che è un ottimo Cioè, fenomeno Allora, se vinci questa notte E dico Se vinci questa notte Non la vincerò mai perché faccio schifo Ok, allora Sono 0, 2, 2, 1, ok? Ok, quindi se la vinco cos'è che devi fare? Non lo so, ti do Un biscotto No, che sto per ingrassare No, no, ti do i biscotti quelli che non ingrassano Ma, eh Allora ti do Ti do un bicchiere di tè Di che? Di tè Ah, ok Allora va bene In te va bene Ragazzi, lasciate i like se volete altri video con Sorella TV No, con Seri TV Esatto Esattamente il primo video con Sorella TV Con Seri TV Ma che bella Ok, è lì Bene Foxy, ok? Bonnie, dov'è che sta? Dov'è Bonnie? Ma, no, lo so C'è un'altra stanza, ti ricordo, eh? Dove ci può stare Bonnie Altre due Che è successo? Potrebbe trovarsi nel salone, eh? Perché in FNAF c'è sta roba che Quando arriva Cioè, ti mostra solo l'ultimo animatronic che è arrivato in una stanza Perciò A me lo poteva essere qui Ma dov'è? Ok, ecco O lì Vediamo un po' Non è in fondo al crudoio Non è No Controlla la porta, aspetta Ok, allora è nel salone Però visto che è arrivata dopo Chica Non te lo fa vedere Comunque Però è bugato Magari è alla porta Però è bugato Allora Apri le telecamere adesso Verso Foxy Perfetto Chiudi No, Foxy Foxy Deve rimanere su Foxy Con la telecamera Ok, controlla di nuovo che l'altra Perfetto Chiudi Fermo Non fare Niente Fermo Se senti di nuovo dei passi Fai qualcosa Con qualcosa intendo non alzare Passi Aiuto Luci Ok, ma prima è meglio che controlli Bonnie Perché di solito è lui il primo che li Ok, Foxy Controlla Foxy Ok, perfetto Chiudi Basta 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 Eh, Serena Mi mette ansia No, io ho 36% di energia alle 4 del mattino Che ok, non è una cosa così male Però insomma Aiuto Sento la musica adosso Adosso Ma io non so parlare La musica non vuol dire che si è vicino Vabbè, magari mi devi dire qualcosa riguardo alla musica Che non so Ma cazzo, Serena Ecco, perfetto Sei contenta che adesso è arrivato Non controllare che la luce di là Ti spetta l'energia C'hai due pacche Pacche è fuori Vabbè che ho chiuso qua Quindi in caso Ok, ma dovresti controllare Bonnie Io sento un sempre passi Non controllare C'è tanto mio Bonnie, cazzo Sì È andata mia Anche io non so fare Ti sto dicendo come fare Proprio perché non sai fare E poi fai per le tue Sono le 5 Allora, sono le 5 Ok, te lo concedo Insomma, meglio Controlla tutte e due le luci Io sento sempre passi Allora, Foxy adesso Bene, chiudi la porta Chiudi Adesso controlla il corridoio Questo è vero, sì Perfetto Che bello Non riaprire Adesso controlla Madonna il rumore Che figo Cioè si sente un po' Tutto bene Controlla di là adesso Ok, riapri di nuovo Adesso controlla di nuovo Foxy Foxy Taletta Foxy Perfetto Ok Adesso non dovrebbe disturbarci più Teoricamente Te ricontrolla un po' Di nuovo le luci del corridoio Perché comunque Hai rimasto solo 15% di energia Che non è bene Cioè è bene Perché siamo alle 5 Ma non è bene Perché è facile finire anche quella Perciò adesso A meno che tu non senti dei passi Passi Ok, capito Però dai E poi mi sento sempre No dai Non chiudere Non fare niente Ok, siamo alle 5 Mi allontano Siamo alle 5 Ok Siamo alle 5 Restiamo fermi Fermi Ma anche se non apro Potrebbe attaccare No Bonni attacca solo Adesso sento le padelle L'unico che potrebbe attaccarci In questo momento Sarebbe Foxy Ma speriamo di no A questo punto Sai cosa bisognerebbe fare Di intelligente Mettersi a pregare? No Ah, quello anche Sì, quello sarebbe una buona cosa Però Aspettare che l'energia Finisca tutta Ah, beh sì Perché così Tanto quando Sono alle 5 Quindi si arriva a Freddy Comunque Teoricamente Allora Perché il problema adesso è Foxy Sì Oh, bravo Siri Non ho fatto niente Ho detto tutto tu Perfetto Sono un bravo insegnante Sì Mi sono stata licenziata Perché mi hanno sentito Ok, dicevo Non sopevo fare niente Quindi mi hanno licenziata per quello Ah, vedi C'è pure la telecamera nell'ufficio Non devi Non sento niente Perfetto Allora aspetta C'è il suono che è alto Non so quanto Ok, benissimo Ragazzuoli Se volete un altro video Con Siri TV Che l'ho detto bene stavolta Lasciate i like belli E E la prossima volta giochiamo a FNAF 2 Ok, considerando che è estate Che con le finestre chiuse Dentro questa stanza stiamo sudando Sì Direi di concludere quel video Perciò ragazzi Io spero Vuoi mettere la tua cuffia intanto Per fare la La È uguale Tanto farlo qua vicino Ok Bene, quindi allora ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Ringrazio Siri Che Fatto da 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 Gamer Girl Oggi Sotto questo ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Sare vi è riuscito a lasciare Il bellissimo like Sotto questo video commentato Con quello che ne pensate Con quello che volete Ditemi se volete altri episodi Di Che giochiamo a FNAF Con seri tv FNAF with seri tv FNAF with seri tv Nuova serie Nuova serie su Netflix Sì su Netflix Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale questo Per non perdervi nessuna dei miei video Iscrivetevi all'Oltv2 Perché se succede qualcosa su questo canale C'è il secondo canale Che è di sicurezza Lo trovate qua su nelle schede Iscrivetevi al canale dei sassi Perché sta per iniziare Sassi's Wizard Adventure Ho quasi finito di editare il primo episodio Perciò Trovate anche il canale dei sassi nelle schede Iscrivetevi Perché sta per iniziare Sassi's Wizard Adventure Vedete cosa ragazzi Non lo giro nella prossima video Perciò Ci No Aspettate Io con me Seri Ok Ok 3 2 1 Ciao Ciao Ma potrei farlo un po' meno sensuale però Va bene lo faccio meno sensuale Come lo devo fare? No no Cioè nel senso Sarà già finito il video C'è la schermata nera con i video consigliati adesso Rifacciamo No non lo rifacciamo Ciao ragazzi No 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 no